musica ragazzi ragazzi eccoci qui io ho trattenimento fallimento la tua esibizione non piace hai catturato proprio a stario un elize mamma mia questi però neanche mi pagano secondo me vabbè vabbè riprendiamo dai riprendiamo ecco ah peccati divini ecco perché si è avvicinato a stario sì vabbè ok riprendiamo da dove ci eravamo lasciati stiamo esplorando l'underdark l'underdark quindi non siamo ancora nel secondo atto giusto? mi hai detto no ok è una fase un po' di transizione transizione ecco avevamo sconfitto sì Mimic vedi vedi che c'è andato esperienza c'è andato esperienza adesso siamo a livello 6 tanta roba ottimo ottimo io ho preso una magia che non adesso non diciamo che non c'erano non c'erano magie no no me la ricordo ma non c'erano magie che mi hanno ispirato a me piace molto quelle di fuoco esplosive ma non c'era niente purtroppo purtroppo però hai preso rimuovi maledizione che vedrai sì perché il commento ha detto che ci servirà più avanti allora mi è capitato solo una volta ecco magari a noi ci capita di più però se è stato basilare rimuovi maledizione basilare sì come Basil investiga dopo sì sarei dovuto rimanere fino a fine gioco maledetto ah ecco era maledetto ma siccome lui era cattivo nel suo nella sua ranna no lo saremo anche noi tranquilli ah a prescindere quindi eh sì perché c'è da rubare quando c'è da rubare ah siamo maledetti vabbè eh sì eh poi vabbè capirai perché il luogo dove dobbiamo rubare ci maledirà eh no perché non capisco il luogo proprio ci maledisce proprio il luogo eh sì eh sì persa un po' comunque io eh sono venuto di qua sì perché vorrei dannazione arrivare dall'altra parte sì ecco a scala ma qua sono due leve mhm a vedere cosa andiamo Pala gli ultimi saranno i primi ahhh ok a posto a posto te capi te capi ok no però no torna giù torna giù aspetta ci andiamo così dall'altra parte guarda te capi te capi si allora saltiamo sulla piattaforma saltiamo sulla piattaforma non mi spignete per favore ce la fanno ce la fanno gail e karlak signori vi devo dare una no no dove vai stai felice no dove salto giù di sotto no si buttati giù ok ah e poi adesso ci spostiamo con questo ok aspetta aspetta devo fare così se no lì quindi andiamo dopo presumo no ok salto dall'altra parte ecco qua dobbiamo esplorare manca questa zona qui spippolo spippolo porta attenzione che da queste parti c'era uno sconto perché va su lei scusi perché guardo prima su bene posso si prego prego faccio pure tipattico è proprio tipattico qua ci sono tracce di sangue non è che incontro brutta gente qui no ma qua è un po' tutta brutta gente si qua diceva appunto senza attenzione ma poi alla fine non lo sai manco ma dove sei ah tu sei da tutta altra parte eh si eh stavo spippolando qua tutta l'azienda della oh lì c'è uno gnomo anziano bitwar bitwar vabbè ah ma tu sei là aspetta che arrivo no qua non c'è nulla di che eh se non devo venire io rimango qua perché di qua invece c'è c'è un passaggio interessante c'è uno scrigno un forziere come lo vuoi chiamare la panchina ce lo siamo mette seduti eh la panchina eh tanta roba sì panchina eh qui qui c'è 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 da aspetto lei aspetto lei di là sì c'è da vedere vabbè andiamo a vedere no non vuole andare facci lei eh io no sì sì aspetta perché poi siamo sopra magari non scendiamo stiamo su sì stiamo su forse lo forse lo prendiamo dove perché lì è zona principale quindi attenzione ah quella è zona principale ok eh sì allora mappa di moonwalker qua c'è moonwalker sì questa mappa di guerra propone un piano dettagliato per attaccare il villaggio di moonwalker e incoraggiare i soldati a uccidere in spietato silenzio ma dove sta sta mappa non lo so vedono loro vabbè è un foglio ho scritto sti due fregnacci è un foglio due fregnacci sì hai salvato tu? no salva lui perché è zona principale no qui qui dobbiamo tornarci dopo va bene allora via ma intanto te lo do a te questo raccogli e aggiungi la mercanzia ah ecco questo lo prendo io ok si si ho trovato uno stampo poi ci servirà ok dovremo poi decidere cosa fare va bene ma dopo 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 prima c'è tutta tutta una roba robosa robosa andiamo di qua torniamo indietro e io aprirei la porta ma non andiamo neanche qui su ah perché da questa passerella qua poi si va ok ok no no poi ci andremo prima però dobbiamo far di qua e poi tornare giù va bene ci avevi la chiave si ah vabbè allora qua c'era uno scontro un po' a sorpresa allora salva va salva va ma non è no non è un'imboscata non mi pare almeno non mi ricordo ma che io tipo avevo aperto una porta mi sono trovati questi dentro ah ecco allora andiamo prima a spippola de qua no prendiamo robe eh si robe voi tutta roba da da buttare praticamente io questa roba tua aspetta vende scheletro questa roba tua io intanto che tu fai ecco posino ok chiave chiave raccogli lettera non consegnata vogliamo leggere dov'è maestro che è derrick la mia frusta finalmente vabbè che è derrick che è derrick che te frega come vogliamo che te frega ma dov'è che hai trovato sto documento quel forziere quale forziere l'ho aggiunto alla mercanzia l'ho letto l'ho aggiunto alla mercanzia lettera non consegnata eh ma non mi ricordo questo forziere ma no ma non aggiungere mercanzia la lettera è una cosa importante troviamo un forziere che vuole luce e gli diamo la luce va bene cantiche della signora oscura ok ecco vedi dove sei eccomi eccomi si dimmi dimmi vedi quella porta lì la vedi sopra si no qui qui ah si la vedo la vedo oltre quella porta ecco oltre quella porta c'è gente ok quindi io andressi io dov'è dov'è riconosciuto le armi hai visto che perspicace mamma mia eh ah ecco stampo questo lo prendo assolutamente è vero qua dobbiamo cercare troviamo degli stampi non metterli in vendita prendili prendili tutti prendili tutti eh tutti si si hai capito tutti 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 si tutti 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 allora per la porta però va scassinata quindi ci devo pensare io è certo ci devo pensare io quindi io devo avere davanti tutti per forza vabbè mi prendo carlac vicino dai aspetta mettiti in posizione eh aspetta dove posso mettere eh boh mi metto qua che sennò no mettiti magari sopra ah ecco guarda qui qua 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 oh ci abbiamo la stessa idea aspetta 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 un attimo non aprire non aprire spostati un pochettino spostati un pochettino ecco vai aspetta aspetta questo lo metto qui ok salvato ok si fallito aspetta ci riprovo e dai non si vuole aprire momenti concitati tutti i tiri bassi aspetta aspetta oh ma allora aspetta è normale che ho un po' di arnesi oh tutti i tiri bassi ma che è cinghiale infernale cinghiale infernale oh bello ma è possibile questi sono loro che stanno dell'aubeo 1 addirittura ammazzate e tenta di nuovo madonna ma 18 la difficoltà non ci arrivo un tiro sopra il 10 cioè vabbè no non si apre sta porta e niente fanno il giro aspetta niente è sfortuna resta mi sono rimasti nove arnesi da scasso uno sarà quello giusto alleluia oh dai attenzione serratura aperta dopo aver usato 10.000 arnesi ole ole ecco subito mamma mia allora arrivo con pala la piazza qua così magari fa da io sai cosa faccio crescita di spine sono brutti e gliela faccio qui così quando si avvicinano a questi questi si fanno molto male ahah ecco e basta e mi allontano perché io avvicino mi piace questa crescita di spine eh si il qua direi che sta qui tocca a gail ma gail non vede nessuno macco io eh devono proprio uscire dalla porta eh se io faccio così eh e invece devo mettermi davanti ma scusa ah così aspetta eh vabbè io con gail dai scendo qui e quanta vita vabbè poca c'era più quello vabbè colpisco come movimento non sufficiente dai prima si adesso no eh vabbè e allora niente che faccio niente sono sceso per niente fa vedere eh da là ci riesci no non riesco non riesco a beccare nessuno niente ciao poca a loro fa che prova morta oh mancato ha mancato pala grande pala grande pala aspetta che scatta carlac l'ha buttata giù così vorrei usare palla di fuoco che dici no questi hanno quello quello che ha più vita ha 58 ok no no aspetta qualcosa di normale ma tu cazzo non la vai eh ah sono immuni al fuoco mannaggia oh non l'ho letto eh eh si è immuni al fuoco resistente al freddo guarda è morto perfetto dai grande errimo ok e quello il più pericoloso è quello con l'ash gli altri dai l'ho preso no 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 madonna vabbè ma dai Dexter sei proprio una pippa posso dire quello è morto ok non è morto quasi no allora ok poca pala vado con pala un attimo sul muso graffio grande ti ha fatto però di contro due danni incendiati però vabbè era una cosa da fare e mi metto mantordente allora io rimango qua ma tira di su Dexter che figura che famo ogni volta scusa come fa a prenderlo qua vabbè dom posso attraverso il muro grande infatti boh è rimasto solo questo che c'ha tutta la vita poi eh non l'ho preso tocca gail ma fa vedere una cosa no deve essere vedere fuoco ghiaccio mi dà il veleno ok no iiii to 55% 55% tantissimo tantissimo ancora l'ho preso da vabbè questo si deve spostare per forza eh vai dai quanto a vita tocca a moi tocca a moi allora io vado di full no aspetta ho sbagliato scusate vediamo come volevo eh stretta folgorante non ci arriva non ci arriva no stretta folgorante in mischia sta attenta infatti eh no a meno che no danni da fuoco danni da fuoco che sono sotto attacco perché io mi darei vedrei vedrei proviamo date ok vai ok vediamo top ah anche eh no si avvenimento ah questo ho visto il fuoco vabbè vabbè intanto Carla non poteva fare altro vabbè tanto gli manca poco insomma ma si vediamo provo a maledirlo no mi ha fatto male ma non l'ho maledetto la maledizione del picciano turno mio turno di pala eh ma non avvicinarti eh cioè eh no ma non mi posso avvicinare granché eh boh metto qua in mezzo ok dieci danni dai questo qua adesso come si muove come si muove muore quindi vai gale vediamo top bravi tutti bravi tutti bravi tutti bravi tutti la città di spine è tanta roba veramente perché fa ouch 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 ma qui è rimasta la nube la nube si c'è eh ma se ne deve andare no o no non se ne va vabbè entra tu tanto da qua non so da nessuna parte entra tu io non rischio e dexter è un po' fraccigone no ma nube di veleno eh non è che ti toglie vita e che fa ti dà ti dà lo svantaggio ah ecco se ne è nata se ne è nata dai oh guarda un po' qua maschera diabolica alla barda oh ah tizza fuoco prendo tutto poi guarda the mask the mask the mask the mask cogli qua c'è un'altra the mask ma questo forse Carla proviamo a darlo a Carla chiave arrugginita dov'è vai qui in basso la lecce in the candele si anche il bracere più luce più luce ah e se faccio nessun bersaglio vuoto vuoto se faccio così così no niente ho illuminato il forziere no no con la roba di prima non è questo vabbè vuoto vuoto no ma la maschera diabolica alla fine non serve niente l'avevo presa ma poi alla fine l'avevo venduta allora li metto in vendita guarda un po' invece l'asciali ah la barda di merro si adesso questa sembra tanta roba in effetti non è che sia malaccio eh però poi a un certo punto a un certo punto del gioco te la tirano dietro ah ce ne sono così tante tante la barde che le devi vendere no ma vabbè mando l'accampamento per ora si 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 bene ah fammi vedere 311 ha un danno in più vabbè lo do a Carla questo e questo lo metto in vendita ok qui vuole e quindi dai ce la si è incavata beh si alla fine è stato facile va bene qua l'avevamo visto si la zanda è sulla parte no si no ok allora basta a me l'abbiamo fatto un pochino di esperienza dai che chiudo le porte io quindi e pensare prendiamo dice uno stampo lo prenderei che fai prendiamo tutti stampo spada lunga ok no perché di qua ci dobbiamo andare dopo e quindi quindi io allora aspetta no no stai su stai su ok tutti su tutti su tutti giù tutti giù no ma dove vai dove vai ah dobbiamo muoverci con questa eh si dobbiamo tornare indietro dobbiamo scendere aspetta e se vado e se vado così ah così leggermente più in alto ma non cambia niente no beh e ok aspetta che ok allora andiamo dove dovevamo andare cioè giù ok la mi seguo mi seguo la seguo chi è che si è fatto male chi è no è lo sforzo ah qua il forziere pesante non l'ha aperto nessuno aspetta aspetta giù 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 di nuovo ah questo è vero non l'avevo visto eh preso io ecco che c'è è buono o niente eh pozione di cura maggiore e oro eh butti via lo butto via no no madonna senti che sforzo disumano che fanno questi per fare scale che è sembra Lara Croft quando ah madonna no non mi fai pensare io non lo so come si fa eh fanno apposta no ma gli sviluppatori non non l'hanno provato per dieci ore di fila a giocare a sentire questa che va sì sì no no madonna ecco in questo caso soprattutto appunto parlavamo di Elder Ring la volta scorsa sì hanno fatto una cosa bellina il personaggio non dice niente muto sì sì è vero che bello solo quando viene giustamente massacrato di botte però beh vabbè aspetta se vendi quello che c'hai tu si mi vendi quello che c'ho io ah sì 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 c'è un mercato anche più avanti volendo però vabbè vabbè stiamo qua no no vendo vendo venda tutto venda tutto venda tutto dico e non mi fa non mi fa vendere perché lo so forse è pieno guarda l'occhio scrutatore aspetta aspetta riprovo eh sì no prova tu provo o si è buggato un attimo io ho della roba il pasto è più vicino di cui pensiamo noi semplicemente vediamo cosa hai sì ok ma mi fa vendere sto più simpatica tien ah non mi fa vendere allora si è buggato eh vabbè ma più avanti c'è un altro mercante vabbè potremmo provare da lui vabbè no andiamo no no perché mi segue quest'occhio è scrutatore scrutano sì ma mi segue proprio dica cosa vuole anche l'occhio vuole la sua parte vabbè su di qua su di qua ma perché ci stasse qui veramente eh c'è Marlo parla con l'anziano l'anziano mi sta appiccicando l'anziano Perché credi che sia un'anima pura? Vuoi il mio denaro? Dovrai battermi per averlo Non dire assurdità Odio questi coltisti dell'anima pure Voglio tirare fuori nere E sembra che voi abbiate una pista Che dici? Oddio Parleggiare con più tazzole E Tu hai la stanza Se non lo sapessi Io diria che un'anima pura Un'anima pura Nel tuo cervello Deve spiegare il tuo cuore E spiegare il tuo cuore È un'anima pura È un'anima pura È un'anima pura È un'anima pura Ehm Vuoi essere onesta Non so E va bene Sono un'anima pura Ma sì, dai, dai Dai, dai Ma dai, ma come? A questi io li avevo convinti Convinti Un forziere, però L'hai visto? Dove? Ah, sì, quello di prima È vero, è vero Sì, dobbiamo prenderlo Dov'è? Col salto Senza che ci andiamo tutti Vai tu, va Sì Un attimo Perché insomma È un po' inquietante No? Questa palletta Vediamo un po' che vuole Vedo il mio riflesso È un specchio, che? Ah, hai capito? Eh, sì È l'occhio di sauro L'occhio di sauro Ah, hai capito Continua Fuggite, sciocchi Oh, forse torna a farsi No, ce l'ha con me Ma forse Vuole guardare me Eh, e vai, vai Guarda, guarda, mi sposto E vedi che si gira Aspetta, aspetta Prova a spostarmi io Fermo No No, ce l'ha con te Allora vai Prova un attimo tu Eh, è stesse cose Eh, sì, questo l'abbiamo Attacca Io solo attacca l'occhio Ah No, no No, no, no Termina, termina Vabbè Ci segui Vi piace seguirci Amen Guardone Prima che qua Succede il puttiferio Eh? Questo qua è il mercante Vedi Corsaro Greymon Ah, ok Vediamo se con lui Riesco a vendere Sì, un po' Dopo salva, eh Vediamo cos'hai Vendi Oh, vedi Oh, infatti Perfetto Allora Fammi vedere se c'è qualcosa Spaccateschi Splendente Spadone di Yorgoral La Madonna Cos'è? Massacro colossale Tutte le creature in linea retta Questa l'ho venduta io Ha delle scorte Arco delle Benshi Le Benshi Ah, c'ha un arco che fa Un danno in meno Rispetto a quello che ho io Però Però fa un danno in più minimo Anziché fare 4-11 Fa 5-10 Però ha come Ha come Potere Quando colpisci Un bersaglio Tenta di spaventarlo Quando poi attacchi Una creatura spaventata Ottieni un bonus Di 1-4 Ti devi per colpire E ti riferi i danni Non è male È buono È 570 Ma Non ce l'abbiamo? Sì Sì Stanno c'è gli occhi Lo prendo Lo prendo Cioè C'avevi 1.400 E passa Eh, ho venduto Adesso tu hai più di me Cioè Io sì 1.200 E No, anche uno spadone Però non so Perché Carla che sarebbe già a posto Momentaneamente Però Sì, dai A Carla che adesso Le ho dato Quella spada Che silenzia I bersagli Quindi nel caso Sono maghi Ahà Allora Prendo delle pozioni Non si sa mai Sì E direi Basta Dai Non c'è nessun bastone Niente Ha un po' di pergamene Ma tutte cose Ma No, sono quelle Ah, sono quelle che Sì, è vero Ti avevo fatto ordine Messe in vendita Sì Ok Allora, salva Perché hai detto che Prima che succede Un macello Quindi Allora, ho salvato Ok Ah, giusto Eh, non lo dovevi più paggiare L'arco Eh, sì Ok Questo magari Vabbè, lo mando all'accampamento Dai Ok Allora Ehm Non so Parliamo con la sergente Trin Dai Parloci te Sti bidocchi Ma questa aveva degli stivali importanti Mi parlo Infatti vedi che è scalza Come sta andando lo scavo Vedo che sei a piedi nudi Ho sgraffignato Questi stivali Da un agnoma in fuga Sono tuoi forse No, no È col cavo Eh, no, no No, no, no Ti conviene trovare il tempo Per un'anima pura Vabbè Come sta andando lo scavo Sì, ecco Ecco I've got no time for The parasite stirs But it's a mere tickle You hear no thoughts Or memories Just an echo Of scars That never healed A true soul, eh Givesus Racka A look Could have told me Glad you're here To take responsibility Tunnels collapsed Trapped True soul near He's stuck in there With poisoned gizus We don't get him out soon It's both our heads Ma a me va bene Ecco Vedo che sei a piedi nudi Ah, dai Come ha fatto Nera a finire in trappola Se comprare tutte quelle macerie Non sarà facile Ho qualche idea Me ne occuperò io Ho della polvere esplosiva Non ce l'abbiamo Perché quella Si è portata via Eh, ma abbiamo i barili All'accampamento Che dici? No, no Sennò Perché lui Aspetta Io nella mia run Qua Praticamente Avevo più o meno Fatto la cosa giusta Alleandomi però Con quelli di prima Perché quelli di prima Avevano un debito Da riscuotere Non erano contenti E non erano controllati Dall'assoluta E quindi avevo Tutti gli alleati Nani Drugar Più E i nemici Questi qua Insomma Controllati dall'assoluta E poi però Cosa avevo fatto Dopo che avevo liberato Nier Facendo saltare in aria Con la polvere nera Di prima Le macerie Era partito Lo scontro Cioè Avevo deciso Di ammazzarlo No? Se invece Noi Adesso Vediamo come si sviluppa La questione Ma Anziché liberarlo Prima Ammazziamo Che doveva ammazzare Poi lo liberiamo Così poi è da solo Ah ok E' più facile No? Va bene Va bene Ma intanto Chiediamo le Cosa Come ha fatto Nier a finire in trappola Eh no Eh no Cosa sperate di trovare In questi scavi Si Eh Eh vedi Se non vengono pagati In fretta Avrò una rivolta Io avevo sfruttato La rivolta Praticamente Cioè Me ne occuperò io Della polvere esplosiva Sembra che vi aspetti Un lavoro duro Sgombare tutte quelle macerie Non sarà fa Hai qualche idea? Eh Eh Diciamo le Non so Me ne occuperò io Eh sì Dai Andiamo a prendere i barili No? Eh ma aspetta Senza ammettere Che abbiamo la polvere No 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 facciamo la due Me ne occuperò io Ma certo Ma sì Soprattutto quando sono nani Perché noi Perché con la polvere nera Però Poi muoiono Anche gli ignomi Ma noi gli ignomi Dobbiamo salvarli Eh ma se non si elevano Scusa Come Come salvamo Vedi Ci abbiamo la missione Salvare gli ignomi A greenford Liberare gli ignomi Delle profondità Eh Ma Sì Però se devono scansare Da qua Eh Ma finché ci sono No E no Ah dobbiamo Eh Ci sono gli schiavisti Questi non scappano mica Eh Proviamo a Parlare con questo Maestro della mente Sì Poco E se parli Con uno degli ignomi Vediamo Apprendista Lut Lutbrook Percezione Origlia Origlia Conversazione Sì Sì Origlia 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 Ok Dieci Speriamo bene Daie Daie Che udito sopra Fin Ti hai visto Vabbè ma Con ste corna È l'antenna Intendi Filomena Se ne andava Eh sì Ma se non salva È un po' strano Che riusciamo comunque A parlarci Con quello lì Che Con un po' Lì frusta Però Infatti Eh Allora Beh diciamo La prima Intendi Se ne andata Ma se ne salva Eh filomena Se ne andata Ma è infatti Sì sì Scappata Che ha la polvere Ah vedi Ah vedi Eh ho già abbastanza No farò ciò che posso Certo certo Eh ma scusa ma Tu non avevi trovato niente No Anch'io No Effettivamente La dove era lei No 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 Ah Adesso c'è un Riserva di polvere nera Va Sulla mappa È apparso un indicatore E se Ah eccolo Prova a riparlarci Prova a riparlarci Prova a riparlarci Dice qualcosa altro Sì No Allora andiamo a prendere Eh sì Ah io farei così Mi teletrasporterei Dalla mappa Vengo anche io? Oh Non so Se no stai lì Dai prendo io Eh sì dai Dov'è? Aspetta la via era Ah di qua Qua Te fai un giro Destra Comunque Intratteni gli gnomi Sì intrattengo gli gnomi Allora Carissimi gnomuncoli Uh guarda che vado a fare Statua di Shard senza faccia Vediamo se riesco a non cadere qua Nel fuego Mamma mia mi hai fatto Prendere un accidente Dexter Cos'è quel simpolo? È oltre la parete? Non lo so Prendiamo dall'altra parte Capisco Questo non si può Eh qua mi dice Teschio Ma dov'è? Carissimi gnomi Come butta? Qui c'è una pozione Ma non la posso prendere? Marca muzzola Ah forse Aspetta Siete dei guardoni Posso dire? Da dove cavolo si accedeva Niente Se vuoi prendere niente Eh mi sa che si sta rivelando Più complicato Difficile eh? Aspetta perché Mi sa che ho commesso Lo stesso errore Che ho commesso Nella prima rank Anche io pensavo Forse qua Invece E se vai a destra Invece che a sinistra Ma dove? Eh dove Dove stai te praticamente Torni indietro No e No a destra Non è tutto chiuso Tutto chiuso Ok Beh sì Tutto Scusa Ma qui si potrà andare Penso di sì Fa vedere Però è tutto chiuso Aspetta Torno qua su Ah 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 no Vedi che dice in basso In basso Eh ma in basso Allora aspetta Vado da solo però Eh sì è meglio Eh mi porto dietro La gente Ecco forse Dall'altra Eh sì Vedi si può Si può Ma perché Stai guardando Sì ti sto guardando Dalla mappa Si può andare giù Però devo avere Caduta morbida Eh aspetta Diciamo così Allora Andiamo a gay Caduta morbida Torno Ok Adesso salto giù Qua Guarda là Che salto Che hai fatto Ah Quanto qui ti mando roba Sì Ok Sempre pergamene Ah ah Eh però è di Vabbè è una zona Che non avevamo visto Eh però è distante Non so però Magari facendo Strano Qua non si può andare Possibile Raggiungere Della L'aculite L'aculite Che avevo visto io Ma se è quella No no È un'altra Però Vabbè Pergamino Invisibilità Te la mando Ok Eh però C'era qua Ok C'era della robina Ma Ecco non Non puoi andare Dritto per dritto De là No 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 Qua poi non mi da Nessun segno Niente Qui niente Proprio No Perché Sa proprio Dall'altra parte Eh no no Non si può andare Cazzarola Com'è che avevo fatto Avevo Vuto lo stesso Problema Che non era Ben chiaro Da dove si passava Eh Sì Sì Ma qua Vedo una sorta Di ponte Un po' Un po' Più avanti Su No ma Quella è una stanza Ah una stanza È una stanza Però Se tu vai qua Non c'è niente Eh ci sei quasi Praticamente Eh no ma avevamo già visto Ma A meno che C'è una prova Non so Scava Perché tu volendo Puoi anche scavare Senza Senza che ci sia effettivamente L'input Eh Ha venuto di scavare qui Perché scava Tipo Qui Guarda bene Guarda bene Nient'altro che terra Eh Niente Niente No ma io non l'avevo Non mi pare che avevo scavato No Niente Che in teoria ci sono sopra Però Eh sì Eh Eh Deve stare per forzare là Eh no Ah no ma io è vero Avevo presa la polvere nera È vero Avevo presa la polvere Da quella lì A meno che Vabbè provo Guarda Fare così Dov'è Possibile raggiungere Vediamo eh Facci facci Eh ma ci facci Provo a lanciare Questo Su Gale Riduci Oh Andiamo Dove vado di qua Ma come Non ci passa Non ci passa Non ci passa L'è strano L'è strano Devo rimpicciolire io Lo sapevo Arcata Crollata Eh scuola Se Se dico Vedi Sono decisamente Troppo grande Con me E con Gale Che piccoli C'è che non ci passa Ma scusa Troppo stretto Per me Ma come se non Avesse preso Provo a farlo Guarda Sprechiamo Vedi Oh No Non funziona Oh Non so Non lo so Non lo so Eh boh Mi spiace che stiamo Perdendo tempo Però Perché Perché Lassopra 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 Questo è quello Aspetta Che sto Arrivando io Rimpiccioliscimi No no Non funziona Non funziona Niente proprio No no Allora No a parte che Dove sto Dove sono finito Ah qua Ridotto Niente io Devo vedere le porte Provo Cos'è io Gli stivali Ah già Eh vabbè No No provo Andare Su Ma lì È da tutt'altra parte Però Vedi ma mi indica giù Comunque Riserva O si è Buggato qualcosa Eh un po' Tipo Ah Ah no Ma Poi andrà a vedere Tu lì Ma Dove dove Secondo me Eh dove c'è Indicatore Riserva di polvere nera Ma scusa Oh madonna Sì Arrivo Allora Dov'era Ok Raggiungo Gaelle Perché di là Non c'è niente C'è un Qualcosa Oltre Ma Non è che avevamo forse fallito tutti un tiro Non mi ricordo Però Eh ma se non sta qua Dove cazzola sta Scusa Ma secondo me Si è Buggato sto coso Perché deve essere per forza Andando dentro a sto buco Eh È qua Eh ma È proprio qua Posso provare Posso provare A farlo A parte che anche sto occhio Adesso sta seguendo te Ma ho capito Ma che cosa vuoi Però posso provare A ridurre te Ma Troppo Deve essere per forza Dentro a sto buco No il buco è dall'altra parte Però Dove Dall'altra parte Qua dove c'è Gale Qui Ecco Ecco Qui Arcata crollata Ma Vedi Troppo grande Forse palla dove Eh forse palla dove ridurre No no Palla è già Scusa Ah se può ridurre Palla Troppo Provo 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 a muovere palla Devi muovere palla Eh Porca putzola No non va Eh vedi No no Non ci va proprio Possibile raggiungere Non lo so È solo che così Porca vacca Come facciamo Andare avanti Con la missione Di salvare gli gnomi Ma non è che si deve entrare di qua Invece che di là A meno che potrei Aspetta No che cosa Aspetta C'è un po' di Confusione Un attimo Allora Così Aghe si sta avvicinando No Non mi funziona Mi sono un po' Incasinato Aspetta Sì sì Fai Calma Eh fai Però Stiamo perdendo Un po' di tempo Troppo tempo Troppo tempo Eh Oh eh Allora Facciamo una cosa E così magari la risolviamo Sì Adesso Creiamo Un taglio Un taglio E vado a cercare Su Dunque Allora Tutto sto casino E poi alla fine Ce l'avevo già Vabbè Ma perché Eh ma no Ma a parte che Eh sì Anche Sai le scorte Che abbiamo trovato prima Sì E le segni ancora Non l'ha tolto Ma è un bug Bug Sì In teoria sì Cioè Una volta che trovi un qualcosa Lo devi Deva No Praticamente Lì Io però non mi ricordavo più Purtroppo C'erano questi due sacchi Sacca di polvere nera Cioè non abbiamo quella di Filomena Ma abbiamo questa Eh sì Che ha lo stesso effetto Anche penso un barile Vada bene Però Però allora Non ho capito Perché L'ognomo Perché in effetti Prima avevamo la risposta Abbiamo la polvere nera No? Te la ricordi? Eh sì Quindi forse Era per quello E ce la dava Eh ma allora Perché l'ognomo Invece No? Tu Prova a parlarci io Vai prova prova Sembra che tu abbia bisogno Di essere salvato Come ti hanno atturato Avevi una missione Era quello attaccato Al mulino Questo qui Sì Te lo ricordi? Avevi una missione Vero? Stai facendo progressi? Eh non mi sembra Sembra che tu abbia bisogno Di essere salvato Di nuovo direi Eh sì Sembra una sfida Potrei No poi niente Non lo farò No Sembra una sfida Mi occuperò Di tu e la pittura E ti ero fuori da qui Molto opportuno No? Che te ne sarò grato Crollo Vediamo Io clicco su crollo Sì vai vai Succede Ma sì C'è qualcosa diciamo Sei neri Cosa è successo qui? Beh noi sappiamo Che di là c'è qualcun altro Eh appunto Però Sei neri? Sì sì Cosa è successo? Sei neri No Devi morire Cosa tu riesci a vedere? Cosa tu riesci a vedere? Vai Vabbè Concentrazione massima Eh ma il fatto che se io adesso appoggio le sacche Questi non penso che si spostino Eh no Prova un attimo a parlare con Ludbrick Lukebrook Lukebrook Con Lukebrook è quello che c'hai a destra Ah sì Niente Oh è uguale Questo Ma non c'è modo di convincere Prova un po' con questi nani Con il mastro E con la sergente Prova un po' Prova una sergente prima Ho della polvere esplosiva Vai Potrebbe sgombare le macerie Eh vai Eh Nier non è felice Sarà meglio che questi nani Iniziano a scavare in fretta No Ho notato un globo fluttuante Cosa sta facendo? Lo sta facendo Che globo? Eh Non lo so Ma è quello Non è preso sia quello di prima Ma no 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 Vabbè Sennò dai Diciamo della polvere Eh Il Diciamo Il tic va Sennato con lei Ne so Prova prova Vabbè dai That's so Sì Fai allontano a tutti Eh infatti Con sta geppa Basta solo piazzarla Fa vedere E noi Se poi esplode No no Per piazzarla Si può piazzare Però Andiamo Lascia Ok bravi 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 Bravissimi Ok Dov'è che Dov'è finita? Dov'è? Io non la vedo Ma Manco io Ma 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 dov'è? Ma non lo so Dove l'hai messa? Io Perché è finita qui Scusate Aspetta La ripiazzo Più in qua Scusa No andate via Questi ritornano Ma non so Credi Non mi ricordavo più Che questi Comunque si Se lontanavano Se lontanavano Quando la piazzavi Ok Aspetta Mi sposto In qua Dov'è? Dov'è? Sacca Oh Dov'è andare bene Ma dici Non è Non è troppo Distante No Dici Aspetta Un po' troppo Facciamo così Ecco Esatto Così va bene Vai Allontaniamoci tutti Io Io mi allontano Oh Ma perché Sto parlando con te Che sei un credito Vado eh Vado Vai 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 Oh Eh ma a me sembra uguale a prima Ma Non si è scaffita Ancora Ancora Dieci Dieci di vita C'ha C'ha dieci di vita Serve ancora Ma allora Bastava Un barile Eh Vabbè Tutta sa Aspetta Madonna Questi si si stanno a cura Come si è ferito Sto credito Fa vedere Eh no È resistente a tutto Robustezza media Ci vuole Per forza Un barile Perché Ehi ma se lancio la bomba Muoiono tutti Eh sì Non è il caso Questi si spostano Solo se piazzi qualcosa Allora Beh con il barile È un attimo Sì lo so A saperlo No scusa Ha sbagliato Il forziero Barile Oh ce ne sono rimasti Solo tre Però Madonna Cazzarola Bisogna riprenderli Oh Ok Vediamo se ha lo stesso effetto Lascia Lascia Eh no Ma dove mi mette più vicino Ok Faccio io Faccio io Prego Olè Che sono morti No Ah no Un po' di fuoco Grandi Bravi tutti Aspettiamo che vanno i fiammi Ok Questo è È nero De seppia È nero Vabbè ma io volevo Prima di ammazzare tutti E poi liberarli No Ma 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 È breve Per quello io volevo C'è Eee Eeeh 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 Facciamo o la prima o la terza Io direi la terza Dai sì Allora The absolute demands Their slaughter Yet Here you stand In bold Defiance A test Yes You must be The absolute Bade you To try Nier's faith Thryn Carve out il suo cuore e serve il suo rothè se il suo vero è una vera somma lascia l'Absolute salvare l'Absolute l'Absolute guida la mia mano tu hai scelto una battaglia che non puoi vincere Dwega questa vera somma ha scelto la sua sangue provare la tua devotione i capelli rosa te faccio tutti contro mazza aspetta ah ma dove avevo salvato nooo non me lo dire vabbè diciamo che ho salvato prima di tutta quella trafila inutile della polvere nera allora io vado su lui quanta vita c'ha 100 eh si posso fare balla di fuoco si 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 assolutamente lui è lontano però si è lontano lo deve avvicinare un po' vado allora l'occhio scrutatore chiama rinforzi quindi io lo eliminerei per primo si vai vai io mi occupo di lui 90% ma no parla di fuoco solo su di lui dai eh è qui ah beh perché io non colpisco gli alleati eh vabbè 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 allora io mi devo un po' disimpegnare qui aspetta facciamo che sbatto i tacchi mazza cosa poi e me do un po' non c'è me do un po' beh però posso andare qui posso fare perché allora se faccio crescita di spine ecco tutti vai vai fai crescita di spine eh ma la faccio qui soltanto lui si deve avvicinare to ecco si deve avvicinare e si farà male ok to no ecco becca di questo no maledetto ce l'ha ce l'ha con te brutto stro ma nooo ma nooo ti ho buttato lì che tipo pezzo di di fango siamo un po' nella cacca allora sto pensando eh eh sì siamo molto nella cacca sto pensando eh oh fallimento critico peccate questa ma ma che c'ha una palla una palla ce l'ha con me però le spalle mi ha mi ha controllato mi ha controllato che c'è contro ah questo eeeh ascolta facciamo una cosa sì perché qua la vedo oltre che dura brutta anche lui secondo me al prossimo giro questi ci ci arano sì sì allora perché sono tantissimi ecco facciamo così salutiamo sì mi spiace che abbiamo perso un po' di tempo per il problema però abbiate pazienza io che l'ho già giocato non riesco a ricordarmi tutto vabbè no vabbè certo ormai è un gioco così grande peccato che sì ma quella roba c'era sempre c'era anche nella prima rank tu prendevi un qualcosa però poi l'indicatore rimaneva quindi tu ti devi tu devi ricordare che l'avevi già preso eh sì vabbè ciao Gone infatti poi si registra in diverse sessioni distanti una dall'altra uno non si ricorda in questo caso no però già così non mi ricordavo beh certo vabbè allora salutiamo qui noi caricheremo la partita e praticamente avevo salvato se non sbaglio prima che parlassimo sì prima che parlassimo qua sì quindi ridiamo più o meno le stesse risposte la polvere ce l'abbiamo già sì a posto facciamo saltare tutto riparte lo scontro e rifacciamo dallo scontro facciamo così sì sì benissimo ok alla prossima ciao 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 a tutti ciao 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 Grazie a tutti.